Eccoci qui a Ligona, Ligona, eccoci qua, Ligona di Ligona, Fioretta Mari. Buonasera, buonasera, io sono con il grande Enzo Salvi. Ho l'onore di stare a cotanta professionalità vicino, che unisce fascino alla sua professionalità. Grazie, 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 sei un signore, sei bravo e sei anche educato. Vi anticipiamo che stiamo per lavorare insieme, una grande sorpresa, vediamo una new, una new, giusto Fioretta? Una new, una new. Perfetto, mi raccomando, approfittiamo per rinnovarvi gli auguri di buon 2015. Ecco, e venite a vederci quando sentirete questa grande notizia, perché uniremo la simpatia, la cultura, la voglia di vivere, viva l'Italia. Dove? Vai. Eh, sarebbe troppo bello dirlo, eh. Diciamo che invece del biglietto avrete il telecomando, damogli un'antimiglia volazione. Ecco, abbiamo anche qui Mariano, Mariano D'Angelo, eccolo qui, grazie Fioretta. Eccolo Mariano, Mariano D'Angelo, e anche Rocco Corsano, Rocco Corsano, vieni qua. Siamo tutti. Rocco è uno dei più importanti amici, è Mariano, è Mariano. Mariano, Mariano. Ho ciecato Mariano, vieni qua. Vieni tra noi. Mi ha messo un dito. Ha ucciso Mariano. Questo è il mio fratello, l'ho appena ciecato. Ciao. Michi Giussino, cintura nera. Siamo amici. Ecco qua, allora Mariano, dici un po' quanto tempo è passato con Enzo, quanto tempo è passato? Da quando lavoriamo insieme? Eh, sono 24 anni. 24 anni? Sì, sì. Lui non era nato. Lui non era nato. Lui non era nato. Vabbè. Disturbato disturbato. Disturbato disturbato. Ecco, disturbato disturbato. Disturbato, vado a fare foto io, vado a passarti con Nicchio. E approfittiamo, ecco qui, tutto dal vivo, tutto in diretta, state vedendo, un cuore per tutti, tutti per un cuore, ecco il selfie, aspetta, aspetta, un altro selfie. Selfie in diretta che tra poco vedrete su Facebook. Ecco il dottor Ivo, ecco Enzo, grande sorpresa. Ciao, alla grande. Grazie, ricambio con affetto. Grazie per essere venuto. No, dopo il selfie, a me è io perché la grande. È il massimo che c'è. No, ma vai. Ecco qua, la festa sta cominciando alla grande, con il grandissimo Enzo. Quando c'è Enzo c'è l'energia positiva e c'è il sorriso. E se riusciamo a trasferirlo ai bambini, allora abbiamo risolto i nostri problemi e quelli degli altri. Soprattutto perché rappresentano il nostro futuro e siamo qua a sostegno per questo. Dico bene io. Grande, esatto, è un maestro, è un maestro. Perfetto, perciò un cuore per tutti. Tutti per un cuore. Ciao.